Con Ilaria Lorenzini, assessore del comune anghiarese, e Maurizio Del Barba, che fa parte del comitato organizzatore. Un fine settimana di storia, di tradizioni, ce n'è per tutti i gusti. Aggiungerei di cultura, perché questa rievocazione che è iniziata qualche anno fa, si è fermata come tutto per il Covid, la grande riparte ancora meglio, perché oltre alla perfetta rievocazione della battitura nell'Aia, come si faceva una volta, da quest'anno ci sarà anche un villaggio in cui sarà possibile vedere che cosa facevano i nostri nonni, di cosa vivevano i nostri nonni, quali erano i loro mestieri. Maurizio Del Barba, si inizia venerdì. Sì, iniziamo venerdì sera alle 20, apriamo lo stand in cui i giovani vogliono proprio festeggiare l'arrivo della battitura. Poi partiremo proprio con la rievocazione vera e propria con il sabato mattina in cui abbiamo gli antichi mestieri. Gli antichi mestieri è un villaggio, un contesto che abbiamo creato proprio per far vedere com'era una vita una volta. creato con gli abiti, con tutto proprio del tempo, in cui sarà un tuffo nel passato per le persone meno giovani e per le nuove generazioni, far vedere com'era la vita di una volta. 11, 12, 13 agosto, ci si prepara al meglio per la festa di mezzo agosto. Ma durante questi due giorni verranno rievocati anche i giochi di una volta, per cui l'albero della cuccagna, il tiro alla fune, la corsa coi sacchi. Insomma, sarà una festa veramente per bambini, adulti e per gli anziani che vengono sempre molto volentieri qua perché dicono di fare un tuffo nel passato vero e proprio.